Ciao a tutti. Benvenuti di nuovo al nostro canale YouTube. Oggi vi parleremo di un personaggio che ha segnato un'epoca nel mondo della musica e dello spettacolo. Adriano Pappalardo. Che fine ha fatto? Cosa sta facendo oggi? Scopriremo tutto nei prossimi minuti. Adriano Pappalardo, noto cantautore e attore, ha vissuto momenti di grande notorietà. In particolare con il talent, star in the star, nel 2021. Tuttavia, è da tempo che non lo vediamo più sul piccolo schermo. In una recente intervista al messaggero, Adriano ha spiegato perché ha scelto di allontanarsi dalla televisione. Oggi, si sente soddisfatto e sereno, concentrandosi principalmente sulle sue esibizioni musicali senza l'urgenza di apparire in programmi televisivi. Ha dichiarato. Non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato. Oggi non dico più. Sì. Quando in realtà vorrei dire, no. Ha anche menzionato la sua esperienza di lavoro con Simona Ventura come uno dei momenti salienti della sua carriera televisiva. Quando gli è stato chiesto se Millie Carlucci lo avesse mai invitato a partecipare a Ballando con le stelle. Ha risposto negativamente. Sottolineando che non avrebbe accettato anche se l'invito fosse stato esteso. Ha condiviso che il motivo principale non riguarda la presenza di Selvaggia Lucarelli nella giuria. La madre di suo nipote Leon. Ma una decisione personale. I rapporti tra Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli sono normali. Nonostante la complessa separazione tra lei e suo figlio. Adriano ha espresso ammirazione per la carriera di Selvaggia e l'ha descritta come una donna coraggiosa. Nel 2016. Adriano ha vissuto un grave incidente con il parapendio. Ma ha continuato a seguire la sua passione per il volo. Ha raccontato l'incidente e come si è riuscito a tornare a praticare questo sport dopo otto mesi di riabilitazione. Sul fronte musicale. Il suo ultimo album risale a lontano 1988. Durante l'intervista. Ha spiegato il motivo di questa pausa. Che risale alla sua collaborazione con Lucio Battisti e la numero uno. Dopo anni di collaborazione. Ha sentito di aver detto tutto ciò che aveva da dire nella musica. Il progetto futuro di Adriano Pappalardo è di portare in teatro i suoi ultimi due album. Dimostrando al pubblico che non è solo. Quello di ricominciamo. Potremo rivederlo in televisione? Forse non presto. Ma come dice lui stesso. Mai dire mai.